la domanda la domanda è vi rivedrete vi rivedrete ovviamente nel narco temporale che va fino a tre mesi i mazzetti sono due angioletto il fiorellino è una stesa a tre carte quindi molto semplice compresa di arcani maggiori e arcani minori adesso io andrò a scegliere tre carte tre carte per l'angioletto questa vuole uscire la mettiamo lì e tre carte il fiore tre carte per il fiore scegli istintivamente quale dei due ti attrae di più se l'angioletto o il fiore e rivediamo di partire dall'angioletto allora la domanda la domanda è se vi rivedrete probabilmente no anche se c'è all'inizio stato un tentativo di costruzione e di avvicinamento e però c'è un momento di isolamento momento di chiusura un momento di chiusura quindi magari possiamo tirare un'altra carta ah il sole il sole e il matto sì c'è questo momento di chiusura da parte di una o due qui non ci sono figure quindi forse da parte tua forse dalla parte dall'altra parte e c'è il matto sul sole quindi è una situazione un po' ambigua e un'indecisione diciamo che non si sa da che parte arrivare questa è la stesa guardiamo se l'altra è un po' più positiva l'angioletto e qui c'è il fiorellino regina di bastoni papa e regina di denari allora vi rivedrete vi rivedrete sì questa è una stesa decisamente più positiva direi che vi rivedrete non subito perché il papa è una figura abbastanza statica però c'è c'è comunque la l'azione c'è l'azione e anzi vi rivedrete e sicuramente combinerete qualcosa di bello insieme perché c'è una bellissima regina di denari con un due di bastoni e un quattro di bastoni che indica proprio l'azione il fare è una festa il due di bastoni è l'inizio di un viaggio quindi l'inizio di un viaggio ovviamente inteso in senso metaforico quindi sicuramente per chi ha scelto il fiore vi rivedrete e anzi ci sarà la possibilità di creare insieme qualcosa anche di passionale e vi divertirete anche direi ci sarà una bella festa ciao a tutti